Musica Mercoledì 9 ottobre, buongiorno e bentrovati con la nostra rassegna stampa. Prima della lettura delle prime pagine dei quotidiani locali e nazionali di oggi ci occupiamo della crisi idrica che è l'argomento del giorno sia in Abruzzo che in Molise. Andiamo a Pescara, in alcuni quartieri l'acqua manca per tutto il giorno. Il tema è stato affrontato nel Consiglio Comunale straordinario aperto dalla Presidente dell'ACA, l'azienda che gestisce la risorsa per 64 comuni e con la presenza di cittadini e associazioni. Il Consiglio Comunale è stato seguito per noi da Valentina Ciarlante. Acqua bene primario, acqua bene da tutelare e da non disperdere. Concetti al centro del Consiglio Comunale straordinario sull'emergenza idrica richiesto sia dai consiglieri d'opposizione del centro-sinistra sia dal collega di minoranza Domenico Pettinari. L'assemblea è stata aperta all'intervento delle associazioni, ai consiglieri regionali, intervenuto l'esponente del PD Antonio Blasioli, ai vertici dell'ACA, l'azienda consortile acquedottistica che gestisce l'acqua per 64 comuni, tutti quelli della provincia di Pescara, parte di quelli della provincia di Chieti e poi ancora Silvi e Atri. Al termine di un'estate critica in cui le riduzioni e le chiusure dei serbatoi hanno provocato enormi disagi alla popolazione, la Presidente Giovanna Brandelli ha reso noti un po' di numeri. Il lavoro sulle reti, che dal 2016 è ininterrotto e che conta ogni anno 7.000 interventi con il 98% di successo, ma non ha nascosto un ritardo ventennale nell'ammodernamento della stessa infrastruttura per evitare le perdite, un monito poi sull'uso consapevole dell'acqua potabile. Si attendono non prima del 2026 la digitalizzazione e altri interventi che verranno realizzati con i fondi del PNRR, ma in tutto ciò, in alcune zone di Pescara, l'acqua continua a mancare. Ce lo tolgono alle 7 della mattina, ritorna verso mezzogiorno un filo per cucinare, poi ce lo tolgono e ritorna all'una di notte anche alle 2. Quindi noi dobbiamo fare le docce, ce lo dobbiamo fare alle 5 della mattina. Quindi sopra dove abito io c'è una signora che c'è la 104 che ha bisogno proprio. L'acqua secondo me c'è, ma è la mala gestione, che ritrovino una soluzione, perché l'acqua è un bene primario, io pago l'acqua, pago questo servizio, la bolletta adesso che mi arriva, che cosa dovrei farne? Tra le associazioni intervenute è anche la di Consum con la presidente Monica De Vito. Il problema riguarda soprattutto la governance, non c'è solo un problema climatico. Assolutamente questa iniziativa del Consiglio Comunale di Pescara è un'opportunità per cercare di capire come cambiare cultura, iniziare a progettare, iniziare anche a controllare. Come consumatori vogliamo partecipare alle fasi decisionali di controllo e di progetto dell'acqua. Ed ora passiamo alla lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali abruzzesi e molisani. Partiamo come sempre da primo piano molise. In apertura appunto la crisi edrica, c'è stato il Consiglio regionale, comuni morosi fanno fallire Molise Acque, titola primo piano Molise. Il presidente Roberti risponde in aula alle opposizioni. L'azienda speciale non riesce a riscuotere i crediti che vanta dalle amministrazioni e da Grimm. Appello ai sindaci, serve eliminare le perdite, combattere gli abusivi e saldare i debiti. E poi la sanità a centropagina, visite troppo costose e 26.000 molisani rinunciano alle cure. Sanità pubblica, tempi di attesa inaccettabili. Non tutti hanno la possibilità di sostenere la spesa per prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. e di sanità si occupa anche il punto di oggi, su primo piano Molise, a firma di Romano Mignogna. Bene le inchieste, ma senza confusione. E poi Stellantis, Presidio USB, salviamo le produzioni meccaniche. E poi a Campobasso, centro commerciale naturale, sottoscritto il protocollo. Dentro la notizia, Agnone riapre il teatro, parte la stagione nel nome e in ricordo di Paola Cerimele. Poi Termoli, trasporti presto il bando per l'acquisto di 11 nuovi autobus. Ancora Campobasso e ancora incursioni di cinchiali, in questo caso nel quartiere San Giovanni, i residenti dicono, viviamo purtroppo nel terrore. Ed ora vediamo le notizie che riguardano lo sport sotto la testata. Lupi, Braglia, grande spirito di sacrificio e buona prova. A Terni è mancato solo il gol. Poi la Serie D, Lisernia riparte dopo il KO contro il Teramo. Farrocco catechizza i suoi. Basket Magnolia, pronta ad affrontare l'Eurocup con PECS, Girona ed Erevan. Ed ora da primo piano Molise, passiamo a dare uno sguardo alla prima pagina del centro Abruzzo. In apertura il centro titola Conto alla rovescia. Oggi l'udienza al TAR sul ricorso ambientalista contro la caccia ai 469 cervi. Ed Amico ottiene la nuova data per la commissione. Si farà l'11 ottobre. E poi vediamo a centro pagina case senza acqua. Ecco il piano Pescara, accordo tra maggioranza, opposizione e l'ACA. Si ai lavori alle reti. Poi di spalla l'intervista a Bruzzo nel mondo, la cooperante bianco, bombe e disperazione nel mio Libano. E poi ancora a fondo pagina calcio di Serie C, Vergani e l'arma del Pescara. L'attaccante in golla ad Ascoli è rinato grazie a Baldini. Oggi a Pescara è il gran giorno della festa. Ecco a chi va il chatte d'oro. E poi ancora di spalla il commento. Cipolle e carote al Macedone. Ed ora le notizie sotto la testata. La regione Abruzzo in Europa. Il governatore Marsilio a Bruxelles passa il piano contro le auto elettriche. E poi ancora si parla del fenomeno allarmante a Pescara. Un diciassettenne fermato con due coltelli in tasca al terminal denunciato. Ed ora dal centro ci spostiamo sul messaggero Abruzzo. In apertura del messaggero vediamo subito. Si parla anche qui di Pescara della cronaca. Spasso con due coltelli. Minore denunciato. Cresce il fenomeno del possesso di armi da taglio tra adolescenti. E poi ancora da Teramo arriva questa notizia del corteo di protesta. Del Fico, il convitto nazionale chiuso, non crolla, riaprite la scuola. Intanto soluzione provvisoria nell'ex consorzio. E poi a centropagina lavori al traforo, niente acqua di notte in tutto l'Aquilano. E sulla crisi idrica a Pescara, l'ACA in Consiglio Comunale conferma se piove poco, erogazioni a rischio nei prossimi due anni. Poi Chieti, il rapinatore dei negozi, arrestato grazie alle telecamere. L'Aquila progetti case e map sui canoni, scontro sul danno erariale. Poi c'è una foto notizia. Si parla della battaglia del comune di Avezzano. Ridateci l'architrave esposto al Louvre. E poi a fondo pagina allarme Vesuvio, Castel di Sangro risponde. La cittadina parteciperà all'esercitazione con il piano ospitalità. Ed ancora di spalla università, sui tagli, rettori in rivolta. Si parla della protesta. Preoccupa il fondo ordinario di finanziamento, vertenza di Abruzzo, Marche e Umbria. Le notizie sotto la testata. Innanzitutto l'economia, auto a benzina. Il presidente della regione Abruzzo, Marsilio, dice Stellantis, rispetti i proclami. E poi ancora a Campli, la cronaca. Operario morì, folgorato a 26 anni, chiuse le indagini, due sotto accusa. Ed infine la serie C, Pescara riposa e si gode la vetta. Pineto caos, Ammaolo non accetta. Ed ora dalle prime pagine dei quotidiani regionali ci spostiamo sui quotidiani nazionali. Due argomenti principali sulle prime pagine di oggi. La fumata nera che riguarda la consulta e poi la riforma del Catasso. Si parla di più tasse per chi ha ricevuto i bonus. Partiamo come sempre dal Corriere della Sera. Vediamo subito l'apertura del giorno. Consulta a vuoto l'elezione. Il caso la maggioranza non ha i numeri e sceglie la scheda bianca. Polemiche e assenze sospette. L'opposizione ferma il voto su Marini. Consigliere di Palazzo Chigi. Ancora nulla di fatto per la nomina del nuovo giudice della Corte Costituzionale. È l'ottava fumata nera. La maggioranza in difficoltà sceglie di votare scheda bianca. E poi ancora, vediamo, Crosetto diserta il Consiglio dei Ministri. Diversi Consigli dei Ministri. Gelo di Meloni. Non capisco. Si parla appunto dell'amarezza della Premier. E poi ancora Europa, Trump, lo show di Orban. L'offensiva dei Patrioti. Ed ora, come vedete, c'è anche la notizia su Giorgetti. Si parla della manovra. Valori catastali più elevati per chi ha usato il super bonus. E poi, Medio Oriente e Libano aggredita a truppo del TG3 su Haifa Centorazzi. L'autista morto d'infarto. E dal Corriere della Sera ci spostiamo sulla Repubblica. Vediamo la prima pagina di oggi in apertura. sulla Repubblica si parla della riforma del Catasto. Bonus casa. Arriva la tassa. Il Ministro Giorgetti, in audizione alla Camera, annuncia l'adeguamento dei valori per chi ha usufruito di incentivi. Poi ammette, dopo la revisione dell'Istat, sarà difficile raggiungere l'obiettivo del più 1% di PIL nel 2024. Poi consulta, fallisce il blitz di Meloni, la maggioranza vota scheda bianca. E poi c'è anche la notizia che riguarda la sentenza che è anche sulle altre prime pagine di oggi. È in Nigeria, condannati PM De Pasquale e Spadaro. E poi a centropagina la notizia che riguarda il Nobel per l'intelligenza artificiale. Ed ora dalla Repubblica passiamo a dare uno sguardo alla prima pagina del Messaggero. In apertura del Messaggero si parla di Superbonus rendite più alte. Giorgetti alla Camera revisione dei valori catastali per chi ha ristrutturato grazie agli incentivi. Coneo si cambia, lo sgravio sarà sulle tasse e non sui contributi. avanti con gli extra profitti. E poi anche qui ottava fumata nera, consulta al centro-destra, vota scheda bianca, l'opposizione, l'Aventino ha funzionato. E poi ancora c'è l'aggressione in Libano della troupe del Tg3, l'autista morto purtroppo di infarto. intanto Israele accerchia le basi dell'Unifil. Ed ora ci spostiamo dal Messaggero alla prima pagina del Tempo. Vediamo subito l'apertura del giorno. Il Tempo titola Amici miei. Vediamo, c'è anche la foto in prima pagina chi flirta con gli estremisti. scrive Il Tempo da Boldrini a Di Battista, da Fratoiani a Dorfini. Ecco le foto che raccontano gli incontri con Nanun, il finanziatore dei terroristi finito nella blacklist di Biden. E poi l'Islam radicale espulso l'imam di Bologna, nemico della Lega, sostiene la Jihad. E poi tra le altre notizie vediamo anche di spalla l'inchiesta Spioni volevano incastrare Fontana ma sul presidente della Camera Striano in Co non trovarono nulla. L'ex capo del DAP russo in audizione c'erano tensioni tra i magistrati. Ed ora passiamo dal tempo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. In apertura del Fatto ci sono le intercettazioni di lampo con questa riforma niente inchiesta. Toti il PM di Genova ha pinto sulla norma in aula da oggi. 45 giorni e poi stacchi nelle indagini complesse e in un mese e mezzo capisci solo chi stai ascoltando. Parla Roberto Rossi procuratore di Bari così si restringono i poteri di indagine e si favoriscono anche i gruppi mafiosi. Sentenza a Brescia sul caso Eni Nigeria otto mesi in primo grado ha il PM De Pasquale Spadaro hanno nascosto prove utili. Ed ora dal Fatto Quotidiano passiamo a dare uno sguardo alla prima pagina di oggi del manifesto. Il titolo forte del manifesto ha tentato Giorgia Meloni assente alla votazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale fallisce il blitz scrive il manifesto ideato dalla Presidente del Consiglio per portare alla Corte Costituzionale il suo consigliere giuridico mancano i voti e le destre si rifugiano nell'ennesima scheda bianca anche se tanti non seguono il controordine di scuderia e la maggioranza promette di insistere e poi in Libano aggredita la truppe Rai muore l'autista Amtse pesanti Rai dal sud bombe anche su Damasco e poi ancora la striscia in trappola spari su chi fugge dal nord di Gaza e dal manifesto passiamo a dare uno sguardo alla prima pagina del quotidiano la verità la verità scrive i parenti delle vittime processano Conte prima drammatica seduta della commissione d'inchiesta sul covid l'ex premier incalzato perché nel cts non c'erano i medici che offrivano cure ma solo chi generava allarmesmi senza il clima di terrore mai i nostri cari sarebbero andati in ospedale per una febbre poi li sono morti e non ce li avete neanche fatti vedere e una causa pilota dell'Italia fa tremare AstraZeneca sapeva dei rischi mortali col suo vaccino e poi c'è la foto l'accusa ai vertici di autostrade soldi dei pedaggi a Benetton & Co anziché alle manutenzioni ed ora dalla prima pagina del quotidiano la verità passiamo a dare uno sguardo alle notizie economiche finanziarie sulla prima pagina del sole 24 ore ed apertura del sole c'è il catasto caccia alle case fantasma e a chi ha utilizzato il super bonus verso la manovra Giorgetti alle camere chi ha ristrutturato deve rivedere le reddite verificheremo dice poi ancora taglio alcuneo fiscale coordinato con l'IRPEF nessuno perderà nulla e poi il sole 24 ore si occupa del PNRR la spesa non decolla nel 2024 solo 9 miliardi contro un obiettivo di 44 e poi ancora fusioni nei primi 9 mesi operazioni per oltre 61 miliardi e poi le notizie sotto la testata che riguardano il Medio Oriente bombe su Gaza 60 morti e Damasco 7 uccisi Netanyahu avverte il Libano rischio distruzione come a Gaza e poi c'è anche la denuncia dell'Unicef tra Gaza e Cisgiordania già uccisi 14 mila bambini in un anno ed ora dal sole 24 ore passiamo a dare uno sguardo alle notizie sportive del giorno sulla gazzetta dello sport in apertura c'è una bellissima foto Teo il grande gelo multato e squalificato ma chiede un super stipendio vuole oltre 8 milioni il Milan dice no il rinnovo deve meritarlo Teo Hernández 27 anni attualmente ha un ingaggio netto di 4,5 milioni e poi la gazzetta parla della nuova Italia di Spalletti domani a Roma col Belgio e poi ancora arbitri da Rosso anche Rocchi scontento almeno già 16 gravi errori in questo avvio di stagione il designatore apre Alvarra chiamata manca uniformità e poi ancora Capodanno in Arabia Riyadh Inter Atalanta e Juve Milan Supercoppa dal 2 al 6 gennaio come cambia il calendario è bene ora passiamo a dare uno sguardo al palinsesto di oggi sulla nostra rete alle 11 Ternana Campobasso partita di calcio e poi alle 13 extra time la replica del programma sportivo condotto da Valentina Ciarlante alle 14 la prima edizione del nostro telegiornale alle 15 ancora trasmetteremo la partita Ternana Campobasso e poi extra time alle 19.30 l'edizione serale del nostro TG alle 21 viva la musica con Gigione e alle 23 l'ultima edizione del nostro telegiornale bene la nostra rassegna stampa termina qui io vi ringrazio come sempre per la vostra preziosa attenzione vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento con il TG delle ore 14 tessi